Sì, è stata una partita molto difficile, oggi eravamo un po' rimaneggiati con varie assenze, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati su 3-0, forse al secondo tempo ci siamo un po' addormentati, però poi alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato con una buona difesa. Daniele Paris, un calcio di rigore e un tiro libero parato, però non è bastato alla parrocchia San Giuseppe per riadrizzare questa situazione. 3-0 il primo tempo, poi nel secondo siete venuti fuori molto bene. Allora, analizzando il primo tempo abbiamo concesso quel poco che bastava per prendere i gol. È stata una partita comunque sia bella, che oltre al nervosismo, arbitro, non arbitro e tutto quanto, è stata comunque una bella partita, combattuta fino all'ultimo, da parte nostra e anche da parte dell'altra squadra. Abbiamo un po' di rimpianto, perché comunque sia, per il modo in cui abbiamo giocato il secondo tempo, potevamo fare molto meglio in tutta la partita. Però stiamo crescendo come gruppo e comunque sia, andiamo meglio ogni partita che passa.